La quarta edizione della Milano Design Run È un anno che mi alleno per la Design Run, quindi sono pronto Si vede, si vede Il gruppo 3D, il gruppo 3D, guardate il numero Anche quest'anno, per favore, aspettateci Buongiorno a tutti, amici vicini e lontani, siamo con Thomas Berloffa Il pupillo di Marina Abramovic Ciao a tutti, è la mia prima edizione, un'organizzazione fantastica Michelangelo ci ha stupito tutti quanti, siamo pronti a partire Non sappiamo dove andare, non sappiamo qual è la strada Io non so dove l'arrivo, ma ci fidiamo di Michelangelo Ciao Comunque non preoccupatevi, state attenti ai braccialetti Quando arriviamo in Statale, ci si ritrova sotto un grande tubero colorato E chi si perde mi telefona Ciao Ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Arriviamo a Farta Gilda. Ci siamo quasi. Ci puoi fare. Guarda che ci puoi fare. Ossi l'ultima cosa che fai. Vi faccio solo il cartello, fine. Grazie a tutti. Grazie a tutti.